Salve a tutti, buonasera e benvenuti in questo nuovo video del Gobo Toscano a poco prima, ormai è il pomeriggio, siamo ad aspettare che stasera si giochi questa fondamentale partita per la Juventus mi viene da ridere a dire Juventus-Salernitana, fondamentale ma ahimè sì ci siamo ridotti a questo, ma ahimè non finisce qui non finisce qui, non c'è solo una partita fondamentale che dovrebbe essere un semplice giro di festeggiamenti per aver vinto lo scudetto, invece no, siamo qui a giocarci un posto nella prossima Champions League mi fa alquanto sorridere per non piangere, ma ripeto non è finita qua perché arrivano delle indiscrezioni di calcio mercato che a me mi fanno veramente girare le scatole girare le scatole, ovviamente sono indiscrezioni quindi prendiamo tutto con le dovute precauzioni ma prima di tutto, come recita il banner qui in alto, like, quindi un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale del Gobo Toscano su, ci stiamo inchiodando, non si arriva a questi 10.000, santi Dio ci vuole così poco è uno step minimo, nei giorni scorsi ne abbiamo fatti centinaia al giorno non vedo perché non fare almeno una cinquantina al giorno per arrivare tranquilli tranquilli al mio compleanno che è esattamente domenica prossima quindi fra una settimana tutti pronti a festeggiare col Gobo Toscano ma detto questo condividetelo anche il video, commentatelo e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti stasera live, domani sera live abbiamo un tour de force in questi giorni quindi pronti, prontissimi, stasera faremo il post partita in live con gli ospiti consueti e poi domani sera avremo un gran procuratore pluripremiato in live con noi e passerà una serata con noi a chiacchierare di tutto il calciomercato soprattutto inerente alla Juventus ma lo lasceremo parlare anche dei suoi pupilli che ha in gestione e di cosa stanno facendo nelle varie categorie allora, cominciamo con questa notizia sconfortante e l'articolo recita tandem da sogno con Vlaovic arriva al posto di Zirkzee e io qui dico ma da sogno? giunto lì vara una sorta di piano B nel caso in cui non dovesse arrivare la rivelazione del Bologna ok, intanto già da sogno un E perché se è un piano B non è proprio un sogno ma sulla carta non dovrebbe esserci storia per la Juventus quella con la Salernità nella partita perfetta che capita al momento giusto per blindare una volta per tutte la qualificazione della prossima Champions League e per preparare la finale di Coppa Italia con l'Atalanta in programma a Roma tra soli 4 giorni quello penso non ci siano stati problemi penso la finale se ci avessimo un allenatore furbo l'avrebbe già preparata da tempo ma non lo so i Granata sono già retrocessi da due giornate si presenteranno a Torino senza niente da perdere non è detto che sia un bene tutt'altro una stagione davvero disastrosa per il club campano ma è stato realmente in lotta per evitare la retrocessione è confinato all'ultimo posto ormai da mesi quattro cambi di allenatore sono serviti a poco né Paolo Sosa né Filippo Inzaghi né Fabio Liverani sono riusciti a risollevare le sorti di una Salernitana che finora ha ottenuto soltanto due vittorie incassato 24 sconfitte e soprattutto 75 gol per quella che è indubbiamente la peggior difesa del torneo oggi in panchina siede Stefano Colantuono che ha il compito di traghettare i Granata durante l'inevitabile discesa in cadetteria poi verrà varato un nuovo progetto con l'obiettivo di riconquestare la massima serie nel più breve tempo possibile ecco sto tandem da sogno con Blaovic si torna a parlare di chi? si torna a parlare di chi? e qui ragazzi io vorrei veramente una ola per carità ha dato tanto la Juventus ma per piacere anche no anche no anche qui ritorni si parla di Morata la Juventus ha già battuto due volte in stagione della Salernitana una piegata a fatica nella sfida di campionato grazie a un colpo di testa vincente di Blaovic nel finale travolta 6 a 1 in Coppa Italia nonostante un 11 infarcito di seconde linee tra i protagonisti più attesi del match sarà in programma quest'oggi pomeriggio c'è ovviamente il centravanti serbo che non trova la via del gol dalla gara di Cagliari dunque dallo scorso 19 aprile l'ex Viola voglia di riscattarsi non vede l'ora di essere un punto fermo anche nella prossima stagione oltre a Chiesa tuttavia gli serve un'altra spalla secondo il portale ficages.com nel caso in cui non dovesse riuscire ad arrivare a Joshua Zirkzee del Bologna la Juventus potrebbe virare su una vecchia conoscenza ci riferiamo ad Alvaro Morata che l'Atletico Madrid valuta 15 milioni di euro e che tornerebbe per la terza volta in carriera nella sua Torino allora 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 ma io vi dico una cosa vi dico una cosa ci sta che torni ci sta che vu mi dica voi eh ma la Juventus ha dato tanto è uno che fa comodo uno che... allora e se è provato con Milik e se è provato il ritorno di Ken cioè allora i ritorni da una parte e gli usati a livello comunque di età anagrafe abbastanza in su a sto punto io Dio e non si dovrebbero riprendere cioè Giunto li serve ad altro quindi o questa è una buffonata ma a me preoccupa perché il nome di Morata era sul taccuino anche la scorsa stagione cioè tutti gli anni risalta il nome di Morata diciamo un po' come Domenico Berardi ma io non vorrei che poi alla fine ci arriva davvero perché ripeto tutto il bene di mondo per Alvaro Morata poverino ma se vogliamo guardare avanti è inutile guardare indietro e però mi dite voi ma tu guardi a Conte no no c'entra nulla Conte è un vincente Morata fino a prova contraria è un giocatore quindi più passano gli anni più c'è un come si dice un tramonto inevitabile l'allenatore ed è sta lì urla fermo incita può lanciare la giacca o Mallegri ecco lo sforzo più fisico è lanciare una giacca o una borraccia o una bottiglietta d'acqua un calcio a cartelloni un maremma maiala in più ma ce la fanno ma Morata santi Dio ora non è un vecchio per carità però cioè ci si è provato e riprovato ma poi Morata viene in Italia per comodità e per chi è juventino va bene ma anche per comodità cioè a quell'età i giocatori quando sanno cominciano a tramontare non vanno certo a cercare l'ambizione per dare una svolta alla carriera la carriera è già arrivata ecco che allora si va a cercare una comfort zone sa che alla Juventus è una comfort zone ad oggi ancora di più perché è santi Dio ci sa una situazione in cui ognuno pare sia libero di fare quel che vuole dentro e fuori dal campo quindi giocatori dirigenti proprietari tutti tutti allenatori e quindi è normale che lui voglia venire è normale che lui voglia venire è una comfort zone ma dal mio punto di vista se si parla di Morata a 15 milioni andiamo a pigliare a 15 milioni un giovane che non si sa com'è o teniamoci i nostri teniamoci i nostri giovani abbiamo Ildiz abbiamo Chiesa Vlaovic abbiamo Sule abbiamo Healing vuoi che con questi 5 non riesci a trovare 2 attaccanti per giocare con 2 davanti o 3 per giocare a 3 o 1 per giocare a 1 puoi fare tutti i moduli del mondo poi puoi prendere una riserva poi ti puoi riprendere un Caio Org te lo tieni in panchina e lo fai entrare all'occorrenza per far rifiuto a qualcuno per la Coppa Italia per le partite tra virgolette scontate cioè pensiamo ad altro certo se va via Vlaovic o se va via Chiesa allora bisogna puntare a un altro ma non di certo Morata per sostituire Vlaovic ho chiesto poi abbiamo ancora Retegui attenzione che non è Chiusa lì non è finita non è sparita io non ve ne parlo perché non ci sono stati sviluppi ma le chiacchierate vanno avanti ha sentito dire le chiacchierate vanno avanti e come quindi attenzione 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 anche a questo probabile acquisto ovviamente Retegui è più idoneo a fare sia il vice Vlaovic che la spalla di Vlaovic che il sostituto di Vlaovic in caso dovesse andarsene ecco ora il sostituto è un attimino più riduttiva come visione perché Vlaovic è una cosa Retegui è un'altra ma se ti prendi un Retegui più ci metti un altro lì davanti o puoi far giocare che ne so gli compri una spalla forte fisicamente la metti accanto a Retegui a costi un po' più ridotti o comunque a prendere tutti e due come Retegui Retegui più un altro 25 più 25 ti fai un attacco da 50 milioni ti vendi Vlaovic e ci guadagni anche tra le tante ma questo in caso di partenza ma Vlaovic vuole rimanere l'ha ribadito più volte anche Chiesa vuole rimanere da quando hanno saputo dell'ufficialità informale ovviamente non scritta ma dell'esonero di Massimiliano Allegri tutti vogliono rimanere tutti vogliono rimanere tranne i pupilli di Allegri quindi Rabiot che fa le storie Danilo che non si sai che fa De Sciglio si rompe di Contino Alexandre tanto se ne va via e tutta la compagna cantante Locatelli viene identificato come punto fermo anche della prossima stagione ma attenzione 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 può essere un punto fermo però tipo in in panchina non è per forza detto che sia un titolare intanto la mia bambina ha appoggiato la borraccia dietro grazie amore detto questo io vi lascio alle vostre conclusioni io le mie le ho fatte ditemi cosa ne pensate iscrivetevi al canale se vi fa piacere se volete regalarci questo compleanno santi Dio un po' meglio di qualche altro condividete il video lasciate un bel mi piace e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi contenuti stasera ovviamente inutile ricordarvelo alle 22.55 quindi già dalle 23 dai tutti in live credo che prima ci sarà la live reaction da Simone da Atric Voice quindi andate tutti da Simone a supportarlo fate crescere anche lui e in più appena finisce la partita venite da noi venite dai Gobo Toscano su un fate storia tanto ci si diverte dai Gobo Toscano e si dicono anche le cose come stanno fino alla fine Gobo Toscano e fino alla fine Forza Juve ciao a tutti Ciao a tutti